e veniamo ai programmi di questa sera fra poco lo sceneggiato il testimone alle 22 il telegiornale alle 22 e 15 mister fantasy musica da vedere alle 23 e la nona puntata del programma la ginnastica prescistica a cura del dipartimento scuola educazione alle 23 e 30 tg1 notte sulla rete 2 per il ciclo al pubblico con affetto firmato con mencini potrete esistere questa sera al film poliziesco la donna della domenica con marcello mastroianni e jacqueline bici alle 22 e 25 tg2 stasera alle 22 e 35 appuntamento al cinema a corella nicagis alle 22 e 45 informazione e potere quarta ed ultima puntata i nuovi quotidiani alle 23 e 45 tg2 stanotte sulla rete 3 alle 20 e 40 per il concerto del martedì e trasmetteremo concerto dell'orchestra sinfonica della rai di roma alle 21 e 40 per la serie delta andrà in onda la prima puntata del programma la scienza tra le due guerre alle 22 e 30 a proposito di mamma di turchi infine alle 23 e 25 tg3 ed ora lo sceneggiato il testimone a cura del dipartimento scuola educazione trasmettiamo la nona puntata del programma la ginnastica prescistica vi ricordiamo che la decima puntata andrà in onda a martedì 14 dicembre alle ore 23 sempre sulla rete 1